La nuova scuola Cantorno Questa volontà, questo progetto è stato da subito sposato dal coro della venerabile contratemita di San Giovanni De Collato. Perché nuova? Nuova perché da subito si è capito che oltre a prendere l'eredità dell'antica istituzione, la nuova scuola Cantorum ha deciso di proporsi anche per quello che riguarda tutta una serie di situazioni artistiche, ossia spettacoli, concerti, eventi di natura artistica a 360 gradi. Quindi ora non mi rimane che invitarvi a partecipare numerosi all'attività del nostro coro e a visitare il nostro sito che è www.novascolacantorno.com Buon ascolto a tutti! Buon ascolto a tutti! Buon ascolto a tutti! Buon ascolto!